bentornati salve salve dopo i disastri di half wise che schifezza non so se lo vedete prima o dopo comunque abbiamo prima prima con i bimbini abbiamo recensito per modo di dire abbiamo parlato di quella schifezza che ho comprato questo è l mmo più cinese che voi potete vedere non perché grindate semplicemente perché la copia di un altro gioco mostrande di cui io e russia siamo grandi fans tanto fantastico e vi posso assicurare che è esattamente questo diciamo un po è come se voi compraste aveste una parte una ferrari poi qualcuno vi vende una macchina la chiama rossa maranello la fa uguale uguale ovviamente fa più pacco e vi dice ho fatto la stessa cosa e voi vi provo la vende per ferrari questo è il tentativo di questo è proprio una software au cinese si appunto una cineseria della cinese come ha fatto per evitare le cause perché è chiaramente un plagio nascondendosi dietro il governo cinese che gli impedisce agli altri governi fare causa abba quanto sono bravi e quindi per questo non ha avuto cause legali allora il gioco è abbastanza facile e per chi conosce monster hunter siete un cacciatore perché lo chiamiamo monster hunter non hunter blade perché ci è impossibile dunque questo schifezza chiamarlo con un altro nome siete un cacciatore di grossi mostri qui credo ci sia anche il pvp da quello che ho indagato il funzionamento per me dopo due minuti mi sono abituato e faremo un evento talk to vivian ecco qui cliccate mazza quanta gente o si e qui non laggo invece in quell'altra merda laggavo beh sui misteri ma guarda possiamo andare questo parli con questo per i confronti della roba oddio si è similissimissimo non è identico ma anche nella grafica di tutto è similissimissimo ma non vediamo con questo lei mosbo andiamo ammazzato ah credo che sia swamp event facciamo sto evento vai tra due fa qualcosa si facciamo i cacciatori allora questo non dirò tantissimo perché noi preferiamo l'originale si decisamente e faremo anche allora guarda vedete la tizia qui ah qui c'è una cosa che dovrebbero mettere in mostrante vedi che c'è il modo puntatore del mouse e il modo visuale per combattere che è una cosa che avrebbe potuto implementare si wow in automatico ti va sono cose carine perché questo nell'originale la cassa oggetti all'inizio la smazzate in solo si ve la dovete caricare un oggettino per volta però è veramente simile è veramente uguale va veramente uguale cioè a parte che non ci sono i portali non sono definiti portali no per il resto e i mammutoni forse sono un po più cicci quelli originali questi sono un po più smagriti però vi posso assicurare che è la stessa cosa e ti sei stancato ti sei stancato porti sta cacchi di spadona addosso sono già livello 14 voglio dire che la pratica rende perfetta come in tutte le cose scoperto l'acqua calda ok no io invece mi trovo scomodissima con lo spadone proprio non ce la posso fare ah qui ma in area 3 devo andare o area 5 5 area 5 è 5 quello è un 5 non ci ha l'uso no guarda qua è pure questi sono questi invece sono più cicci degli originali e hanno le corna più ramificate è gratuito l'abbiamo detto che è un free to play? no free to play ok allora è un'ottima alternativa a quello originale a pagamento è perché lo dovete comprare è certo appunto però quell'altro multiplayer è davvero carino oh i miei animaletti preferiti questi sono fanno un rumoraccio voi non li potete sentire questi sono più brutti quelli veri sono più belli più simpatici ammazza che spadone ah qui per luttare tasto z eh vabbè e parte la combinazione si aspettate che devo ammazzare pure questo ah e non l'ho ancora controllato se scopri ma a questo punto esclamativo che esclama qua sotto si il negozio li ha visto oddio siamo un imbecilo e perché stai continuando a picchiare il nulla? il nulla? perché ricordati che lo spadone è niente facile da maneggiare perciò io di solito non lo utilizzo ma io aspetta c'era lo spadone avevo preso no non lo spadone avevo preso anche l'armettina a due mani lo sai B bags no eh no S sopravvivi ok l'ho scingiato anche questo sì certo fa più danni per carità di dio l'ho spadone però sono sicuro di aver visto da qualche parte l'altra combinazione di armi ne sono abbastanza sicuro perché e questo lo sei solo tu l'ho comprata e questo lo sei solo tu e la seconda pagina di questo? non ci sono le pelli e dove l'hai messa? non me lo ricordo ma anche qui hai la possibilità di farti una casa no non ho ancora trovato la possibilità di farmi la casa vuoi luttare? se non rimetti lo spadone a posto mi sa che luti questa mazza per rimanere in tema però io avevo la spada corta sono sicuro ok l'ut è uguale esattamente la stessa cosa l'idea devi tirare fuori qui come l'invii l'uta è un tasso solo è più facile e beh grazie hai una tastiera a disposizione ti volevo solo ricordare lo sto risicando che non trovo il ma mica l'hai messa ma io ho cambiato anche armor ma mica l'hai messa in una cassa posso cambiare eh lo credo che lo debba fare fuori e allora mo ti attacchi e continui ad ammazzare con lo spadone che culo tutti ammazzati giustamente li hanno scingicati gli animalacci di prima probabilmente andiamo a vedere se sono super boss numero 5 e tipo adesso che qua fa freddo non c'è una pozione contro il freddo ma ho preso quello fur si vedi mi segna qui sotto ah vedi ma ho il tipo fur una cosa apposta per il freddo oh il mostrone che mi ha ammazzato tante volte nel gioco all'inizio che lo dobbiamo ammazzare lo sai ce ne sono due ma si stanno ammazzando tra di loro si completato l'evento go to village bellissimo eh prima me hai detto grazie al mostrone con le ali che ti ha ammazzato il tuo mega super mobbone prometto che lo dico bravo adesso mi ha levato tutte le costine cerchiamo di capire perché io non posso avere un'arma non lo so guarda questo qua che ha combattuto wow infatti super mobbone ma questo è bello sette giorni vedi super movimenti super cose di quelle ma ovviamente c'è uno store vero ovvio avrei dei dubbi a proposito assolutamente no wow però niente arma ma mica c'è una cassa no però posso andarmela a ricomprare io sono sicuro di averla comprata comunque il gioco è carino divertente da fare come al solito qui ci sono le forgi potete acqua acquistare in buona sostanza è un monster hunter quindi per gli appassionati del genere io che ho detto che è un monster hunter e appunto per gli appassionati del genere sono sicuro di averla comprata da lui e vi verrà freddore vedi oltre a perdere queste e queste ho comprato quello in me for trading e ho comprato un'arma a una mano che sarebbe questa oh che vedi è la stessa allora è a due mani solo un coglione e allora hai comprato uno spadone si e allora chi stedì oh questo è livello 5 doveva costruire e no è una mano ah one's world me la ricompro tanto costa poco e voglio vedere se poi io me la ritrovo tac vedi allontanati gliela è rivenduta gliela è rivenduta ah questa è una cosa che bisogna stare attenti se la equipate la rivendete in realtà ecco se sei ancora a parlare col vendor vedi l'avevo comprato lo sicuro spada e scudo ecco io di solito ho così in giro in questo gioco si mi tenevo tutte e due le possibilità comunque per fare le quest qui è leggermente più facile nel senso che basta cliccare e ti porta ah bisogna solo investigare vedi ah ecco perché che figata bastava fare un'investigazione dove era la quest fare detective con ecco credo dalla tipa eh te l'ho detto prima passando una quest e vai e qui vanno altre quest vabbè è andata avanti così fa tre quest sostanzialmente il giochino a differenza di quell'altro se siete appassionati della serie beh guarda se siete appassionati della serie ce l'avete eh infatti se vi volete drogare a gratis questo gioco fa per voi si è veramente carino ciao ragazzi ciao